Poi prendiamo Del Piero, non capisco Del Piero, l'anno scorso sempre in prima linea, sempre mai un infortunio, ma quest'anno arriva il giovedì, venerdì, si infortunia tutte le volte, addirittura per 40 giorni. Mistero Del Piero, non lo so. Secondo me è un mistero, non so capire questi malanni, però io non sono dentro lo spogliatoio, non lo posso sapere, però ho fatto il calciatore e posso intuire qualcosa.